dopo gli inizi da animatore turistico. Nel 1994 inizia a lavorare come attore di scherzi a parte e poi come conduttore del Seven Show, sulla emittente televisiva Europa 7. Nel 1999 appare come Iena nel programma di Italia 1. Il maggior successo arriva nel 2000 con la conduzione del programma comico satirico Libero. Inonda su Rai 2. Il programma, basato su scherzi telefonici, viene condotto da Mammucari per quattro edizioni. Nel 2004 lancia il singolo di musica demenziale Nando. Vero tormentone nelle trasmissioni di Libero. Seguito da www.sciogliamo il Poo. Nell'estate del 2002 e del 2004 conduce il programma televisivo Veline. Per la selezione di ragazze. Le Veline, idonee alla partecipazione al programma striscia la notizia. Nell'estate del 2003 presenterà, invece, Velone, varietà in cui le aspiranti concorrenti avevano la caratteristica di essere anziane. Nella primavera 2005 conduce in seconda serata su canale 5 mio fratello e pakistano. Nel 2006 e nel 2007 Distraction. Un quiz in cui i concorrenti sono sottoposti a numerose ed estreme distrazioni. Mentre cercano di rispondere alle diverse domande. e cultura moderna. Assieme a Iuliana Moreira e al Gabibbo. A qui nel 2007 si aggiunge Lidia Pages. Il programma, nato per sostituire striscia la notizia nel periodo estivo. È continuato anche nel periodo invernale la domenica allo stesso orario di striscia. Dal 31 gennaio al 21 febbraio 2007 conduce sempre su canale 5 il programma cultura moderna Slurp. versione serale del programma. Il mercoledì in prima serata. Viene scelto anche come conduttore del Festival Bar 2008. In coppia con Lucilla Agosti. Ma la manifestazione è cancellata. Nello stesso anno conduce comunque primo e ultimo su Italia 1. E nel 2009 scherzi a parte su canale 5 con Claudio Amendola e Belen Rodriguez. Con quest'ultima, per tutta l'estate dello stesso anno. Condurrà il noto gioco musicale a premi Sarabanda. Nel 2010 conduce in prima serata su Italia 1 il Varietà Phenomenal. Per la durata di quattro puntate. Con sei ospiti famosi ogni volta, tra cui ospiti fissi Mago Forest e Juliana Moreira. Ha recitato nel film Streghe verso Nord. 2001. Di Giovanni Veronesi. E nella serie televisiva Pieper. 2009. Tratta dall'omonimo film TV di Carlo Vanzina del 2007. Nel dicembre 2010 conduce il programma De Colchia Paura di Teo Mammucari. Tre puntate in cui i concorrenti devono fare scherzi telefonici per vincere premi. Nel 2011 torna a condurre in prima serata su Italia 1 il Varietà Phenomenal. Sempre per la durata di quattro puntate. Nello stesso anno conduce anche The Cube la sfida e i Wind Music Awards 2011 e entrambi sempre su Italia 1. Nell'autunno 2012 è il nuovo conduttore dello show dei record. Nel 2013 conduce La Grande Magia dei Illusionist. Nuovo talent show di Canale 5 dedicato ai giovani illusionisti. Un format ideato da Roberto Cenci e la nuova edizione delle Iene con Ilari Blasi. A partire dal 12 giugno 2013 Iammucari conduce su Canale 5 un nuovo talent show dedicato ai tuffi. Jump. Stasera mi tuffo. Il 22 gennaio 2014 viene confermato alla conduzione delle Iene affiancando Ilari Blasi e la Jalapas Band. Dal 27 settembre 2015 torna alla conduzione del programma Le Iene dove affianca la conduzione Ilari Blasi e il trio Medusa. Ma dopo l'ultima puntata viene reso noto anche il suo abbandono assieme a quello della showgirl. Nel 2016 è il quarto giudice della terza edizione di Tussico e Vales. Dallo stesso anno, affiancato da Laura Forgia, conduce una nuova edizione di cultura moderna nella accesso e prime time di Italia 1. Programma in cui è presente anche il comico Carlo Caneba. Il programma viene riproposto nella fascia pomeridiana su Mediaset Extra.